Capitolo 16. Unità 5. Sintesi. L'ultimo secolo della Repubblica. Roma cambia dopo le conquiste mediterranee. Le conquiste mediterranee del II secolo a.C. producono importanti conseguenze a Roma sia sul piano economico che su quello sociale. La cultura romana, nonostante la resistenza dei tradizionalisti trae grandi benefici dall'influenza greca e comincia a coltivare nuove discipline come la letteratura, la filosofia e il teatro. La vastità dell'impero mediterraneo offre grandi occasioni di investimento e di sfruttamento. Ad arricchirsi sono i nobili che mettono le mani su gran parte dell'Ager Publicus, le terre del demanio statale, acquisito dopo le conquiste della penisola italica. Ma ad avvantaggiarsi sono soprattutto i cavalieri, un ceto nuovo di plebei arricchiti, grandi mercanti finanzieri e imprenditori. Essi non puntano al potere politico, bensì ad affiancare i nobili nel privilegio sociale. Le crisi dei contadini liberi e le fallite riforme dei gracchi. Chi non gode i benefici dalle conquiste sono i piccoli proprietari terrieri italici, il nerbo dell'esercito romano durante le guerre di conquista. Essi si trovano indifesi davanti alla concorrenza dei nobili e dei loro latifondi, ormai coltivati da grande massi di schiavi. I contadini liberi perciò devono vendere o indebitarsi, finendo così espulsi dalle loro terre e venendo a ingrossare la popolazione urbana di Roma. Un disegno di riforma sociale viene concepito dai due fratelli gracchi, Tiberio e Gaio, di origine nobile. Essi puntano a ridistribuire le terre in base a un criterio di equità per risarcire i contadini e ad allargare la cittadinanza agli italici. I gracchi sono però brutalmente sconfitti dalla nobiltà al potere. Sta maturando l'epoca delle guerre civili che insanguineranno il primo secolo avanti Cristo. Due fazioni contrapposte, ottimati e popolari. All'inizio del primo secolo avanti Cristo si formano due grandi fazioni. Gli ottimati sono espressione della nobiltà e dei suoi privilegi. I popolari sono in teoria più vicini agli interessi del popolo, anche se proprio molti uomini da nobiltà, come sarà il caso di Giulio Cesare, militano tra le file dei popolari. Non si trattava di partiti veri e propri, cioè di realtà organizzate e dotate di obiettivi precisi, ma piuttosto di raggruppamenti o meglio di fazioni, consorterie di individui con interessi comuni decisi a conquistare il potere e spartirselo. Iniziato come confronto tra opposti progetti politici, lo sconto tra ottimati e popolari diviene ben presto una pura lotta per il potere, condotta con ogni mezzo. Scoppiano così vere e proprie guerre civili, ovvero conflitti combattuti non più contro un popolo o un re stranieri, ma tra cittadini dello stesso Stato. La prima guerra civile, Mario contro Silla. Emerge in questa fase il ruolo politico dei generali, risultato della riforma militare voluta da Mario. Essa non solo ha creato un esercito di professionisti, ma soprattutto lo ha legato sempre più alle fortune personali dei loro comandanti. Dapprima si accende il contrasto tra Mario e Silla, due generali rivali, appoggiati l'uno dai popolari e l'altro dagli ottimati. Inizialmente prevale Mario, che denuncia la miopia e l'avidità dei nobili, incapaci di guardare al bene della res pubblica. In una seconda fase ha la meglio Silla, che elimina violentemente i propri avversari e governa Roma da dittatore. Pompeo, Crasso e Cesare. Dopo Silla emerge sulla scena un suo giovane ufficiale, Neo Pompeo. In pochi anni egli guida una serie di brillanti campagne militari contro i ribelli spagnoli, pirati e infine in Asia contro Mitriade, contro Mitridate e altri sovrani ellenistici. Accanto a lui si mettono in luce anche Crasso, che liquida nel sangue la rivolta degli schiavi guidati da Spartaco, e Cesare, leader della frazione dei popolari. Quest'ultimo riesce a superare indenne la crisi prodotta dalla congiura di Catilina, nella quale era forse implicato. Pompeo, Crasso e Cesare si alleano tra loro con accordo privato, detto triunvirato, che costituisce una pura e illegale spartizione del potere e dei compiti. Tale accordo stipulato nel 60 a.C. viene poi confermato nel 56 a.C. con l'incontro di Lucca. Forte di questi patti, Cesare si lancia nell'audace e brillante impresa della conquista della Gallia transalpina. Abitata da popolazioni celtiche, 58-52 a.C. L'evento avrebbe segnato con la romanizzazione dell'attuale Francia il futuro corso della storia europea. La seconda guerra civile, Cesare contro Pompeo. La conquista della Gallia pone il vincitore Cesare in conflitto con il Senato. Questi si appoggia a Pompeo e poiché Cesare non intende rinunciare a sfruttare il momento favorevole, ne nasce la seconda guerra civile. La guerra si risolve nel 48 a.C. con la battaglia di Farsalo, in Grecia, che dà la vittoria a Cesare. Negli anni successivi Cesare debela gli ultimi focolai di resistenza pompeiana. Rimasto padrone di Roma, il dittatore ridisegna la vita politica romana. Viene però stroncato dalla congiura nel 44 a.C. delle Idi di marzo. A promuoverla sono alcuni uomini dell'aristocrazia, tra cui Marco Brutto, difensore della prerogative tradizionali del Senato.